Perissimi, è forse il caso di affrontare l'argomento per tempo, anche se dal 1 gennaio solamente entrerà in vigore il nuovo limite alla circolazione del contante, impropriamente chiamato limite alla circolazione, solamente per poter fare alcune precisazioni, visto che torneremo ai 1000 euro con i quali molti anni fa ormai abbiamo pagato già un prezzo elevato in termini di mancato recupero di evasione fiscale e mancato contrasto al riciclaggio, soprattutto un grandissimo calo del fatturato del Made in Italy che in questo periodo non ci vorrebbe proprio e che fu conclamato all'epoca del governo del 2012 che questo limite portò inominatamente ai 1000 euro. Cosa cambia? Non è che si limitano i pagamenti in contante. I pagamenti in contante sono liberi sempre, comunque, perché il contante è la nostra moneta. Le alternative sono monete surrogate, monete alternative, chiamate così perché sostituiscono il contante se noi diamo il permesso a chi ce lo voglia imporre di utilizzare anche una bellissima e funzionale carta di credito o di utilizzare un bonifico. Ferma rimanendo la indiscutibile comodità di tutti questi strumenti di pagamento alternativi al contante, il limite sarà che ciascuna pagamento o anche liberalità in contanti che sia di importo pari o superiore a 1000 euro, pari compresi i 1000, è vietato. La sanzione è amministrativa, non può essere penale perché non trattasi di reato, ma solo di una violazione di tipo amministrativo, abbastanza salata per il fatto che devi pagare molto di più rispetto all'euro che dovessi aver sforato, invece di 999.99, dando 1000 euro o 1100 euro, ti scappa di pagare e tu ne paghi 3000 come sanzione minima. Allora, cosa si deve raccomandare al di là delle polemiche che è molto facile fare sulla azione zero di un provvedimento del genere sul contrasto all'evasione fiscale che si fa ovviamente ormai quasi più senza contanti. La grossa evasione si fa evidentemente con strumenti di diverso tipo, ma non abbiamo il tempo di approfondirlo, invito ad andare a studiare magari anche sui siti ufficiali delle autorità. Ricordo ai colleghi commercialisti che i pagamenti fatture che ovviamente saranno da 1000 euro in su non potranno recare la dicitura pagata con tanti, perché al di là del fatto che non possono essere pagate in contanti c'è sempre la prova che se io erroneamente scrivo contanti quello viene ritenuta una violazione della norma ad una verifica ispettiva anche di tipo fiscale. Quindi è l'unica per adesso anticipazione che possiamo dare. purtroppo un ritorno al passato, non un ritorno al futuro, un ritorno al passato e poi magari ci misureremo con i primi dati alla fine del 2022 sul contrasto all'evasione fiscale e attraverso la limitazione al contante. Se saranno quelli del cashback mi pare di poter dire che saremo a zero. Grazie.